Nella travolgente stagione inaugurale di Temptation Island, una rivelazione ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Al centro dell'impetuoso dramma vi sono Ali, una receptionist nel porto di Trieste, e Federico, un programmatore, la cui relazione sembrava salda. Essendo insieme da tre anni, sembravano ben radicati nella loro convivenza. Tuttavia, la prima puntata di Temptation Island ha aperto una fessura nell'apparente idilio della loro unione. Federico ha esposto le profonde crepe della loro relazione, evidenziando la mancanza di connessione emotiva e le loro divergenze di interessi. Federico ha dato un duro colpo ad Ale con le sue parole, provocando una reazione viscerale e fortemente emotiva da parte di lei, che ha espresso la sua determinazione a lasciarlo. La prova del 9 è arrivata con un video mostrato da Filippo Bisciglia, in cui Federico parla di Ale con disprezzo. Questa rivelazione ha spinto Ale a dichiararsi single, rifiutando di tollerare un trattamento tanto deplorevole. In mezzo a tutto questo, altre coppie stanno catturando l'attenzione del pubblico in Temptation Island, tra cui Gabriela e Giuseppe. Le loro relazioni travagliate hanno creato molta suspense, con i telespettatori ansiosi di sapere se sono ancora insieme. L'episodio inaugurale di Temptation Island ha offerto molti colpi di scena, con la coppia formata da Isabella Emanue al centro dell'attenzione. Nonostante le loro differenze socio-economiche, una sorprendente rivelazione potrebbe cambiare il loro corso. L'adrenalina dello show è ulteriormente alimentata dalla colonna sonora, curata da Fabrizio Baglio. La sua scelta di brani musicali ha ricevuto molti elogi da parte dei fan. L'attenzione principale è rivolta a Manu e Isabella. Manu ha espresso il suo disagio per il modo in cui si sente trattato da Isabella a causa del suo modesto status economico, una sensazione che ha scatenato l'indignazione tra il pubblico. Infine, tra i volti familiari di Temptation Island, risalta Ilaria Tentoni. La sua presenza ha già fatto girare la testa a Manu, anche se rimane da vedere se nascerà un'intesa tra loro. L'evoluzione della loro relazione sarà sicuramente uno degli aspetti più attesi nelle prossime puntate.